Il lago di Como è un lago di origine glaciale dalla caratteristica forma AY invertita. Alimentato dai fiumi Adda e Mera, con i suoi 146 km2, il lago di Como è il terzo lago italiano per estensione. Fin dall'epoca preistorica, il lago ha da sempre rappresentato una via commerciale rapida e sicura per il trasporto di uomini e merci. Con il varo del primo piroscafo, nel 1826, si inaugura un regolare servizio di navigazione, che assume una grande importanza anche per il turismo. È possibile compiere delle vere e proprie crociere visitando le bellezze delle rive del lago e della sua unica isola, l'isola Comacina. La presenza di molte varietà di pesci, anche pregiati come il persico e la trota di lago, caratterizza la cucina del territorio. Il lago di Como è una palestra a cielo aperto. Gli sport praticabili sono vari, dal nuoto alla vela, allo scinnautico, al canottaggio. Il lago di Como è una meta turistica di assoluto rilievo, dove relax e vita notturna hanno come cornice una natura rigogliosa e pittoreschi paesi di case in pietra arroccate sulle sue sponde, dove sembra che il tempo si sia fermato.